Buon pomeriggio, sono Juan Carlos De Martin del Centro NEXA su Internet e Società del Politecnico e vi do il benvenuto a questa sessione dedicata a Internet e Democrazia Deliberativa. Sul palco di fianco a me ci sono i tre relatori, da sinistra verso destra, al contrario dal vostro punto di vista, il professor Mario Lozano, Sunila Abraham del Centro for Internet and Society da Bangalore e il dottor Filippo Grant's Open Space e la Quadratore du Net da Parigi. Dirò alcune parole introduttive sia per contestualizzare gli interventi che seguiranno e anche per dare una specie di base comune in maniera tale che il pubblico, che è generalista con diversi background possa seguire poi le successive discussioni. In particolare, all'interno di questa sessione è uno dei due tentativi all'interno della Biennale Democrazia di questa prima edizione di parlare dell'impatto che ha la tecnologia e in particolare la tecnologia informatica e in particolare Internet sulla democrazia moderna. Per metterci tutti sullo stesso punto di partenza volevo ricordarvi qual è la parte cruciale e importante quando si parla di Internet. Perché Internet è importante? È importante perché si tratta di laboratori personali e l'enfasi è su personale che significa sotto il nostro controllo, che eseguono i programmi che desideriamo, che processano i dati che noi desideriamo e questa enfasi sul personale e sul noi desideriamo è dovuta al fatto che precedentemente, prima dell'avvento dei computer personali, non era così. I mainframe erano controllati da una specifica gerarchia aziendale o burocratica che decideva cosa facevano. Quindi laboratori personali sotto il nostro controllo, connessi a una rete di comunicazione bidirezionale, noi riceviamo esattamente come per la televisione o per la radio, ma trasmettiamo anche. E infine la terza caratteristica fondamentale che vi ricordo in questa sede è una rete di comunicazione bidirezionale senza guardiani ai cancelli, senza gatekeeper, senza qualcuno che dica questo sì, questo no, che siano applicazioni, che siano dati, che siano destinazioni dell'informazione. Allora queste caratteristiche sono radicalmente diverse dalle tecniche di comunicazioni precedenti. Abbiamo nella pratica Internet potrebbe essere definita come una piattaforma sostanzialmente libera, ci facciamo quello che vogliamo purché rispetti chiaramente la legge e purché rispetti i protocolli tecnici di Internet, integrata di comunicazione da uno a molti, quindi io posso comunicare con teoricamente tutti gli internauti, da uno a uno posso comunicare da una persona a un'altra persona esattamente come il telefono in passato e così via. Quindi tutte le modalità di comunicazione sono rese possibili da questa piattaforma integrata, cosa che invece singoli specifici modi di comunicazione, il broadcast tradizionale, era una specifica rete a parte, tipicamente normata a parte, con strutture economiche specifiche, un'altra rete di comunicazione era uno a uno, punto a punto, ed era il telefono, altre norme, altri modelli economici. Tutti questi si stanno convergendo su quest'unica piattaforma libera. Democrazia e Internet. Che impatto ha Internet potenzialmente già adesso, ma potenzialmente ancora di più negli anni a venire sulla democrazia? Comincio da un punto specifico. Vi sarà capitato, sentendo parlare di Internet, di sentire commenti critici del tipo, già ma su Internet e tutti possono dire quello che vogliono. La qualità ne patisce, chi controlla quello che dicono? Quando sento queste cose vi assicuro rimango veramente stupefatto, perché se vent'anni fa ci avessero detto, prendiamo Speaker's Corner, Hyde Park, noto angolo di Hyde Park, dove chiunque può salire sulla classica scatola di sapone, sulla classica sedia e dire quello che vuole, quello che vuole, come questa signora qui, come questi altri qui. Lo potrebbe fare a costo virtualmente zero, come Hyde Park, senza dare fastidio a nessuno, senza limitare le libertà di nessuno. Lo potrebbero fare chiunque al mondo avesse accesso a questo ipotetico strumento. Ebbene, avremmo detto probabilmente che straordinario passo in avanti per la libertà di espressione per le nostre democrazie. Beh, questo è esattamente quello che permette Internet, grazie ai blog, grazie a un sito web personale, è ancora meno intrusivo di Speaker's Corner, perché se non vado a leggere quello specifico blog non mi fa perdere tempo, non mi dà fastidio. Quindi da questo punto di vista, dal mio punto di vista, è un risultato positivo senza se e senza ma per la libertà di espressione Internet. Ma non è l'unica cosa, perché, come ho provato a tabulare in questa slide, Internet è uno strumento potenzialmente di grande efficacia anche per la libertà di stampa, la libertà di critica, la libertà di satira, per aumentare drasticamente il pluralismo culturale e informativo. Un'alternativa ai media tradizionali, che sono per loro natura tecnica, unidirezionali e broadcast, Internet diventi invece frammentata, ma anche nel senso positivo del termine. Molteplici fonti di informazione. Uno posso assemblare quello che mi interessa, posso andare a leggere quotidiani indiani per sapere direttamente quello che sta capitando in un paese normalmente poco rappresentato nei media tradizionali. Può essere uno strumento di trasparenza enorme. Pensate al fatto che da qualche anno a questa parte, relativamente a fatti importanti, su un sito di informazioni io possa accedere alla documentazione originaria, non soltanto alla sintesi più o meno accurata, più o meno fedele fatta da un giornalista. Può essere uno strumento di government, quindi un modo per rendere più efficace, più trasparente, più partecipato il processo di governo a vari livelli, dal locale al nazionale a quello europeo. Può essere uno strumento che aumenta la nostra capacità di fare associazioni di tutti i tipi. Associazioni virtuali, associazioni di fatto, associazioni anche in senso legale. È uno strumento strepitoso per fare un dibattito pubblico che si aggiunge agli strumenti tradizionali come quello che stiamo facendo noi in questo momento. Può essere uno strumento crucialmente per una raccolta di fondi in maniera distribuita. Avete letto della campagna elettorale del Presidente Obama e del fatto che gli abbia permesso per la prima volta nella storia elettorale americana di poter raccogliere fondi molto ingenti da moltissime persone, tipicamente fondi piccoli, piuttosto che grandi contribuzioni di grandi donatori come capitava in passato. Questo è qualcosa che può cambiare la politica, ma può anche cambiare l'associazionismo e in genere l'attivismo. E infine accesso alla cultura. Nella lezione del professor Zagrebelsky dell'altro giorno, uno dei punti che discuteva a un certo punto per che cosa rende una vera democrazia vibrante è anche l'accesso alla cultura, nel senso di potersi informare, di capire i problemi, perché soltanto accedendo alle informazioni si possono prendere decisioni a ragion veduta. Per tutti questi punti e sicuramente per altri che ho messo, internet è potenzialmente uno strumento in senso positivo. Naturalmente ci sono anche rischi. Il dibattito italiano molto spesso si concentra esclusivamente sui rischi che ci sono, non vanno diminuiti, però è anche importante ricordare gli aspetti positivi per motivi che adesso vi ricordo tra un secondo. Tra i tanti rischi che ci possono essere ce n'è uno in particolare, quello di una possibilità di controllo da parte soprattutto di grandi aziende e dei governi senza precedenti nella storia. La distopia del panopticon del filosofo inglese Jeremy Bentham, cioè questa prigione, questa struttura dove una persona sola all'interno in una posizione cruciale potesse controllare tutti i detenuti, può diventare una distopia concreta nel caso di internet perché la sorveglianza via internet può essere perché è peggio del panoptimo, perché è automatica, perché è di massa, perché è invisibile, non sappiamo di venire seguiti. Questo è chiaramente legato al discorso della privacy. Il secondo problema che è strettamente legato al tema di oggi della democrazia deliberativa, qua vedete questo politico americano Newt Gingrich, il grandissimo successo nel 1994, controllo delle camere della Repubblica americana, King of the Hill, all'epoca proponeva, quando internet stava esplodendo a livello di massa, una sorta di democrazia diretta su base elettronica che avrebbe rimpiazzato la democrazia rappresentativa, idea che può prestarsi facilmente, lo ricordava anche Stefano Rodotà due giorni fa, a forma di populismo elettronico molto spinto, una finta democrazia dove qualcuno decide le domande, decidendo le domande predetermina anche le risposte. Siamo a un momento probabilmente critico perché queste potenzialità molto grandi di internet e questi rischi, ma potenzialmente altrettanto grandi di internet, verranno plasmati le decisioni che probabilmente prenderemo, che stiamo prendendo in questi mesi, in questi anni, sia a livello europeo, pensiamo al fatto che si sia discutendo al Parlamento europeo una riforma apparentemente tecnica, il cosiddetto pacchetto telecomunicazioni che all'interno nasconde anche dei punti rilevanti per la nostra cittadinanza europea, sia a livello nazionale, pensiamo al caso della legge ADOP in Francia, cioè la cosiddetta risposta graduata con cui si vuole togliere l'accesso a internet senza un controllo giudiziario. Quindi un momento critico e i momenti critici in questo ambito sono importanti perché se guardiamo quello che è capitato nel passato con grandi cambiamenti tecnologici come il telefono o come la radio o come la televisione, se leggete le storie che sono bellissime di quelle transizioni con parole nei dibattiti che potrebbero essere riprese pari pari e trasportate nel 2009 cambiando soltanto radio con internet, televisione con internet e per il resto le discussioni sarebbero straordinariamente simili. Però la storia ci insegna che in quei momenti dove c'erano diverse opzioni, cosa diventerà la radio, cosa diventerà la televisione, diverse opzioni sul tavolo, a un certo punto si cristallizzano le posizioni e si arriva a una certa normativa che ha deciso come sarebbero stati questi mezzi di comunicazione per letteralmente le generazioni successive. Secondo me, e non solo secondo me, per internet siamo in un momento simile. Potremmo fare delle decisioni in questi mesi, in questi anni che massimizzano gli aspetti positivi a cui accennavo prima e minimizzando quelli negativi, oppure potremmo prendere tutte altre decisioni e trasformare per esempio internet in una grande televisione evoluta o qualcos'altro ancora. Allora su questi temi, fatta questa breve introduzione, ho il piacere di ripresentarvi il professor Mario Lozano, giurista, uno dei primissimi giuristi a occuparsi di informatica in Italia, mi verrebbe da dire in Europa e al mondo, attualmente all'Università del Piemonte Orientale, allievo di Bobbio. Abbiamo Filippo Egrin, qua alla mia destra, di Shopping Space e del gruppo di attivisti internet, la Quadratura Dunet, nonché garante del centro NEXA, e Suni Albraham, imprenditore software e fondatore del centro per internet and society a Bangalore in India. Comincerei di condare la parola al professor Lozano, prego. Grazie per la presentazione e scusate se mi atterrò a dei temi molto generali, probabilmente ritorneremo su questi temi negli interventi successivi approfondendo aspetti specifici. La quantità di problemi che sorgono dall'uso all'interno della società di internet è talmente grande che, nei venti minuti a disposizione di ciascuno di noi, dobbiamo accontentarci di alcuni flash. Io mi limiterei ad evocare un primo elemento che oggi ci fa continuamente sentire la presenza di internet, della rete e delle reti globali, ed è il fatto che la globalizzazione, nel senso moderno in cui la intendiamo oggi, è stata resa possibile dalla cancellazione del tempo e dello spazio dovuto a internet. Oggi praticamente non avete più né tempo né spazio nel momento in cui comunicate, effettuate transazioni. Questo ha cambiato completamente ad esempio una serie di concetti, nel caso specifico giuridici, perché il diritto è finora sempre stato legato allo spazio dello Stato nazionale. All'interno dello Stato nazionale l'informatica e in particolare internet, la connessione in rete, sta trasformando lo Stato in rete. Gradualmente, oggi si parla di automazione della pubblica amministrazione, oggi si parla di e-government, ma sostanzialmente si tratta di portare l'amministrazione pubblica ai livelli avanzati di uso di internet come si riscontra nelle migliori imprese privati, nelle migliori università. L'uso pensato di internet all'interno della pubblica amministrazione dovrebbe portarci verso una burocrazia benevola che sia un po' meno arcigna della burocrazia con la quale abbiamo a che fare oggi. Allora, per non dilungarmi, penserei a due esempi sostanzialmente. Ciascuno di noi, qualunque operazione oggi compia, lascia quelle che si possono chiamare impronte elettroniche, cioè lascia dei dati che non si sa bene dove vadano a finire, ma il più delle volte vengono immagazzinati in banchi di dati dello Stato. Ebbene, oggi è tecnicamente possibile, è già stato realizzato, effettuare ad esempio un censimento elettronico non più ogni quattro anni mediante interrogazioni di persone che girano con dei questionarii cartacei, ma semplicemente avendo registrato in modo organico dei dati e rielaborando questi dati secondo programmi che li aggregano. Il censimento permanente ovviamente presenta pericoli e vantaggi, ma tecnicamente è già una possibilità. Un'altra manifestazione benevolente della burocrazia potrebbe essere quella di fornirci la dichiarazione dei redditi, argomento quasi di attualità ormai, già compilata. Nel senso che tutto quello che è stato pagato a me è già stato registrato dall'impresa, dall'università che mi ha pagato. Io dovrei solamente completare questo dato che già mi arriva. Voi direte che la burocrazia attuale non è molto benevola, però in futuro è sperabile che si avvii per questa strada. Un'altra possibilità, ed è aggiuntiva rispetto alle due che ho detto precedentemente, è quella di interpellare il cittadino o per la votazione o per un referendum facendo uso della infrastruttura informatica e della rete. Il voto elettronico oggi è una realtà, si è visto in televisione a proposito dell'India, avviene regolarmente in Brasile. Tenete conto dell'importanza che può avere in Stati dove le dimensioni non sono di uno Stato nazionale come l'Italia, ma dimensioni subcontinentali praticamente. Infine avete la possibilità di realizzare delle forme di democrazia diretta attraverso referendum frequenti e meno costosi di tradizionali referendum cartacei. Attraverso la diffusione dello strumento individuale, il personal computer, cui si accennava precedentemente, personal sottolineato due volte, attraverso la rete si può chiedere ai cittadini di manifestare la propria opinione su una serie di argomenti che servono di indirizzo alla comunità politica in modo tale da generare norme che non incontrino una resistenza all'interno della società civile. È chiaro che qui i problemi, parliamo non tanto del voto elettronico ma soprattutto del referendum, sorgono numerosi perché come si fa a verificare che non avvengano brogli, come si fa a stabilire chi, è stato accennato in precedenza, formula i quesiti su cui i cittadini sono chiamati a rispondere e in terzo luogo come si fa a garantire che il risultato ottenuto per questa via abbia poi un impatto effettivo sui passi legislativi. È chiaro comunque che la diffusione delle informazioni sia da parte dello Stato verso i cittadini, sia tra i singoli cittadini, fra di loro, ha assunto ormai delle dimensioni che non consentono più di recedere. Quando si è raggiunto un certo livello di tecnologia è pressoché impossibile tornare indietro. quello che sta capitando è che questo gigantesco foro, questo villaggio planetario che parla ininterrottamente, alle volte suscita problemi politici e di fatti i governi non democratici o comunque quando ci sono spiragli di autocrazia si tende a intervenire sulla rete limitando gli accessi circoscrivendo in altre parole la libertà di comunicazione. In fondo tecnologicamente oggi la comunità è molto più vasta ma quello che viene fatto tecnologicamente dai governi autocratici è come togliere la cassetta di sapone sotto i piedi della signora Hyde Park che abbiamo visto in precedenza nella diapositiva. Esiste quindi una possibilità di censura, va organizzata a livello di Stato la parte politica che deve formulare i quesiti, controllare le risposte e verificare l'applicazione delle risposte. In generale in tutta questa attività il grosso rischio è costituito dalla violazione della privacy. Io sono stato uno dei primi a spezzare una lancia a favore di una legislazione italiana sulla privacy. Oggi guardando la realtà mi chiedo se ho fatto bene oppure no. Il quesito che mi viene allo spirito molte volte è quello di chiedermi ma ha senso tutelare la privacy in una società di esibizionisti? Guardate l'uso del telefono cellulare, guardate le trasmissioni televisive in cui si rovesciano i propri problemi personali al pubblico e noi stiamo lì a preoccuparci di alcuni problemi di privacy o così via. Da un certo punto di vista effettivamente può sembrare eccessivo. Se noi però pensiamo alle schedature elettroniche per cui è in corso l'attuale processo telecom eccetera ci rendiamo conto che lo strumento informatico più la rete consentono delle possibilità di controllo tanto inedite quanto inedite sono oggi le possibilità di comunicazione e quindi su questo punto bisognerà in futuro che i giuristi intervengano. Il problema attuale è che i nostri giuristi hanno un'ottima preparazione ottocentesca ma non hanno una preparazione legata all'informatica giuridica. Vi ringrazio per l'applauso perché è veramente balsamo sulle mie ferite perché sono riuscito a istituire un corso triennale interfacoltà tra la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di matematica che mi ha accolto per tre anni nelle sue fila però adesso lo stiamo demolendo per mancanza di fondi e anche per insipienza di persone. Quindi probabilmente i giuristi informatici che abbiamo formato resteranno praticamente un unicum, li metteremo in una baccheca di vetro con la scritta rompere in caso di bisogno e la cosa non sembra avere seguito. Per concludere il discorso su queste possibilità di referendum vorrei sottolineare l'aspetto della libertà che è insita nello strumento rete e informatica. Libertà che significa essenzialmente che ciascuno può dire quello che crede purché non sia contrario all'ordine pubblico e al buon fare la sua idiozia in tempo reale all'universo mondo sarà l'universo mondo a mettere da parte l'idiozia della persona ma tutto questo non deve avvenire attraverso una censura preventiva. L'importante dello scambio all'interno appunto della rete è la possibilità di formulare quesiti e di verificare quali sono le risposte anche se i quesiti invece di essere idioti sono particolarmente delicati e soprattutto se c'è da verificare una risposta della società civile su un problema sentito. Parleremo di un'indagine che è stata fatta elettronicamente tra gli studenti qualcosa di analogo viene fatto attualmente proprio in concomitanza con il biennale della democrazia per verificare l'opinione della società civile sul testamento biologico. Non sono d'accordo con quello che scrive un giornale quando scrive non sarà una palestra di laicismo punto interrogativo. Il dubbio è insinuato per esempio dall'esperimento di dibattito pubblico sul testamento biologico all'interno della Kermes che è quella a cui stiamo partecipando adesso con grande serietà devo dire ma è una Kermes. Ora è perfettamente normale che si interroghino i cittadini sulla loro opinione. Potremmo essere accusati di laicismo di relativismo di altre cose ma l'essenza o diciamo meglio lo strumento tecnico per verificare questa posizione della società civile è la rete, è l'informatica, è internet e quindi è bene non mettere bavagli a internet perché un bavaglio a internet è un bavaglio alla libertà di espressione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 A questo punto ringraziando il professor Lozano diamo la parola a Philippe Agrin, come vi dicevo imprenditore di una società che si chiama Shopping Space ma anche intellettuale che ha contribuito al dibattito su internet in questi ultimi anni e anche attivista tramite un'associazione molto recente, la Quadratour du Net, che ha molto fatto in questi ultimi mesi. Prego. Buongiorno, non parlo italiano abbastanza bene per far intervenire in italiano, parlerò in inglese, mi scuso. Dunque io sono qui questo pomeriggio per parlarvi di un dibattito online che è stato organizzato nel corso del Biennale della Democrazia. Ma prima di parlare di questo argomento vorrei fare qualche nota filosofica, quindi una parentesi filosofica. Vediamo gli Stati Uniti del 1927. All'epoca negli Stati Uniti ci fu una grande controversia tra i circoli intellettuali. È una controversia importante degna di nota perché c'erano due intellettuali che non erano in accordo l'uno con l'altro, quindi non erano discussioni tra persone con opinioni politiche diametralmente opposte. Uno di questi intellettuali, Walter Lickman, scrisse un libro chiamato Public Opinione Pubblica. Era proprio prima di alcune indagini pubbliche. Colitman sosteneva nella sua opera che con i media moderni e con le indagini è possibile fotografare l'opinione pubblica in modo tale da poter poi manipolare le decisioni politiche. La sua conclusione è che proprio alla luce di questo la democrazia rappresentativa deve essere fondata sul consiglio di esperti, sulla consulenza di esperti. Quindi lui parlava di governo degli esperti. In realtà lui sosteneva piuttosto una democrazia rappresentativa informata da consulenti esperti. Un altro intellettuale molto famoso, il filosofo John Huey, scrisse delle critiche sull'opera di Lickman che scrisse altre opere come Function of Public Opinion. Lui criticò Lickman dicendo sì, è vero, l'opinione pubblica può essere manipolata, tuttavia questo è vero perché lei considera gli individui come persone bloccate all'interno di una situazione nella quale possono essere manipolati. Tuttavia se si dà agli individui la possibilità di agire in altre situazioni, se si lasciano gli individui liberi di diventare il pubblico, quindi i cittadini interessati all'interesse pubblico, allora a quel punto gli individui possono rappresentare un complemento molto importante e possono operare un'azione correttiva rispetto a quella degli esperti perché anche gli esperti possono essere manipolati altrettanto facilmente dell'opinione pubblica. All'epoca non esisteva la televisione, nel 1927 se ci fosse stata la televisione Lickman sicuramente avrebbe trovato ulteriori argomentazioni per rispondere a questa critica. Non esisteva nemmeno internet all'epoca e forse per John Q.A. era stato più difficile poter trovare le sue fonti di informazioni. Oggi comunque viviamo in un mondo diverso. Oggi esiste internet come strumento a nostra disposizione. Ora la domanda è come possiamo usare internet per costruire e creare un dibattito tra i cittadini, un dibattito che possa anche informare le decisioni politiche in maniera significativa e importante. Ho scritto su questa slide alcune parole chiave, alcuni principi non particolarmente elaborati, però vorrei citarveli. Innanzitutto io credo che sia importante strutturare il dibattito. Strutturare il dibattito non significa decidere quali punti di viso o opinioni possono o non possono essere espresse. Al contrario, prendiamo l'esempio dell'Italia. Bisogna aiutare ad attivare la mente. Quindi bisogna creare un contesto e mettere a disposizione quegli strumenti che possano consentire alle persone di formulare meglio le proprie opinioni e per comprendere anche altri punti di vista, il contrasto o magari anche a favore. Ecco, tutto questo può essere fatto grazie a dei metodi. Esistono molti metodi che sostengono la democrazia partecipativa. Di questi strumenti fanno parte anche gli strumenti informatici come le reti e i computer. Poiché il dibattito online è un'attività mediata dalla tecnologia, è anche fondamentale che questo dibattito sia messo in relazione con altri contesti. Ad esempio, un contesto come questo, dibattiti faccia a faccia o situazioni deliberative, ad esempio nel caso delle decisioni politiche o comunque situazioni interattive. Quindi il dibattito online deve essere correlato ad altri tipi di attività e ad altri contesti. Infine, i dibattiti online non devono essere considerati come una cosa per ottenere un risultato in un determinato momento. Sono invece passaggi in un processo molto più articolato e molto più lungo che porta alla costruzione di un'opinione pubblica. E questo processo è fondato anche sull'intervento di strumenti. L'utilizzo di dibattiti online e di altri strumenti consentono alle persone di ampliare le proprie conoscenze e capacità. Oggi il know-how o la competenza su come usare una serie di strumenti si acquisisce man mano. Ecco, dopo questa breve introduzione filosofica, passo immediatamente invece al caso specifico. il centro NEXA, il centro per internet e la società, e Juan Carlos De Martin è uno dei due direttori, ha organizzato un dibattito online nell'ambito della Biennale della Democrazia. L'oggetto di tale dibattito è stato il seguente. Abbiamo chiesto l'opinione del pubblico sulla possibilità che alcune facoltà diventino un'università aperta da diversi punti di vista. Cioè, la definizione che si è trattata di Open University, di università aperta dalla dichiarazione di Will, fondamentalmente è una dichiarazione elaborata da studenti americani durante un incontro, una riunione. Questi studenti fanno parte di un'associazione che si chiama Studenti per la cultura libera. Ecco, questi studenti hanno elaborato questa definizione di università aperta che si articola in diversi punti. Si definisce che un'università aperta è un'università all'interno del quale gli utenti producono e diffondono informazioni e risorse aperte. Un altro punto illustra in che modo si propongono i passaggi perché questo avvenga. Ecco, quindi abbiamo sottoposto all'opinione pubblica questo concetto di università aperta. La Biennale della Democrazia non è un evento lunghissimo e quindi abbiamo deciso di strutturare questo dibattito in diversi passaggi. Innanzitutto abbiamo dibattuto e abbiamo deciso di esprimere l'apprezzamento sulla bontà di questa idea, sull'idea di questa open university, di università aperta. In un secondo passaggio si è chiesto di elaborare alcuni commenti sulla definizione. Quindi sì, si può pensare che sia una buona idea, ma magari ci sono dei punti nella definizione di università aperta che non sono sufficientemente chiari. E poi il terzo passaggio è stato di richiedere ulteriori commenti, ulteriori contributi per ampliare magari il concetto di università aperta, magari adattandolo al contesto specifico dell'università di Turino che può essere diversa dall'università americana. Quindi questi sono stati i tre passaggi per sostenere, per supportare questo processo, oltre a chiedere di esprimere degli argomenti attraverso forum classici, ad esempio l'invio di email, ecco. Oltre a questi strumenti più classici abbiamo deciso anche di costruire una rappresentazione grafica degli argomenti dibattuti e discussi e talvolta anche delle argomentazioni correlate. Ecco, questa è un'attività molto ragionevole ed è anche molto delicato perché la rappresentazione deve essere precisa, altrimenti si può dare un'idea distorta del dibattito e anche un modo molto diretto perché gli individui possono accedere alla discussione. E' chiaro che in questo processo bisogna sempre dare la possibilità agli utenti di criticare il processo. Poi si è offerta la possibilità di commentare la definizione, come ho detto il secondo passaggio. Si è utilizzato uno strumento sviluppato da Shopping Space, dalla società per cui io lavoro, è software libero, è uno strumento basato interamente su software libero come tutto ciò che noi facciamo. Questo strumento consente di commentare, ma non nel modo solitamente utilizzato. Normalmente si scrive un commento su un post di un blog e quindi si ha un elenco di commenti alla fine del blog. In questo caso ogni commento può riferirsi ad una sezione specifica del testo. Quindi sono commenti strutturati come note al testo. Infine, la terza parte era quella delle propose e in questo caso abbiamo utilizzato un metodo classico, utilizzato già prima di essere implementato nel settore informatico. In un primo passaggio ogni persona che desidera fare una proposta può scrivere brevemente qual è questo suggerimento, questa proposta. E poi in una seconda fase si chiede ad un gruppo di persone di valutare questa proposta con una scala di valori che possono andare magari da molto importante a non importante. Ecco, si sceglie una scala, ad esempio sono completamente d'accordo oppure sono completamente in disaccordo a seconda di come si struttura questa scala di valutazione. Ecco, la proposta viene valutata. Questo ha il vantaggio di dare una panoramica, una rappresentazione molto chiara e sintetica dei risultati e delle proposte. Ecco, tutto questo è durato due giorni, due giorni e mezzo durante la biennale. Poi ieri sera o meglio ieri notte, questa non è un'esagerazione, abbiamo fatto due cose. Innanzitutto abbiamo prodotto una sintesi delle opinioni e delle proposte espresse in questi due giorni e mezzo e poi abbiamo chiesto ad alcune persone se erano d'accordo a operare come messaggeri, quindi per relazionare un incontro fisico come questo sull'opinione delle università torinesi. Quindi abbiamo scelto questi messaggeri del dibattito, a sinistra vediamo appunto questi messaggeri che si stanno preparando all'incontro che non è poi una cosa così facile e poi a destra vediamo invece appunto sempre questi messaggeri che hanno presentato i risultati all'aulamagna del Politecnico di Torino. Mentre presentavano i risultati di questo dibattito online, e qui vediamo alcune immagini della presentazione, vediamo anche le autorità dell'università presenti, sono persone che hanno concrete responsabilità all'interno dell'università, c'era il rettore e altri rappresentanti dell'università. Ecco, queste persone, io personalmente non ero presente perché stavo partecipando ad un altro dibattito a Bruxelles, tuttavia sono riuscita a seguire la presentazione via streaming e ho potuto vedere che i rappresentanti dell'università stavano ascoltando con grande attenzione. Sono state prese delle decisioni dopo l'intero esperimento, non ce l'eravamo neanche aspettato, avevamo promesso che avremmo ascoltato, che ci sarebbe stato un dibattito, ma in realtà siamo andati ben oltre le nostre aspettative e quindi si è deciso di creare una scorecard, quindi una scheda di valutazione sull'università di Torino per capire in che situazione si trova rispetto alla dichiarazione relativa all'università aperta. Dunque, ci sono ovviamente dei limiti anche in un'operazione di questo genere, a essere onesti, non è un'operazione facile, perché non è facile mobilizzare un ampio numero di partecipanti. Ci sono cose che su internet sembrano un po' esplosive, in realtà poi i grossi risultati si ottengono un anno dopo. Devo dire che c'è stata una partecipazione reale, ma limitata. È comunque un primo passo, quindi siamo piuttosto soddisfatti. Ci saranno dei follow-up, come ho detto, sono già state prese delle decisioni da parte dell'università, e poi ci saranno due eventi nei prossimi anni. Innanzitutto la conferenza finale della rete europea coordinata da Nexa, che parlerà proprio dell'open knowledge, della conoscenza aperta, della condivisione delle informazioni, e poi ci sarà nell'ambito di Euroscience un'altra conferenza. Come ho detto, è comunque stata un'esperienza, un esperimento molto interessante, e mi auguro che saremo di nuovo qui per la Biennale della Democrazia nel 2011 per eventualmente proseguire questo tipo di esperimento. Grazie. Grazie a Filippo Egrin. Passiamo all'ultimo intervento dopo il quale cominciamo il dibattito col pubblico. Sunil Abraham, imprenditore nel campo del software libero e fondatore pochi mesi fa di un altro Center for Internet Society, a parte Nexa, a parte il Berkman Center e un paio d'altri al mondo, in India, Bangalore, come vi dicevo. Prego, Sunil. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti di essere venuti. Vorrei iniziare ringraziando gli organizzatori della Biennale, anche Federico e Marzia di Clast, per avermi portato a questa splendida città e anche a questo splendido evento. Io cercherò di sollevare alcuni punti controversi, toccando tre aree in particolare. Vi presenterò una critica dell'attuale situazione di riforma della legge sul proprietà intellettuale, introducendovi due recenti concetti, l'egemonenia della cosiddetta cultura textuale e poi un secondo punto. Questo è un diagramma che io chiamo continuum della libertà. Avete sentito parlare il professor Aigrin, che si è invece riferito al free software. Qualcuno magari non ha sentito parlare di questo termine. Allora, il free software è un po' come la camicia che io indosso. Non ho bisogno di chiedere il permesso a nessuno per mettermi questa camicia, neanche alla persona da cui l'ho acquistata. Non devo chiedere il permesso a nessuno se volessi scucire questa camicia per vedere come è fatta e per farne un'altra. Non devo chiedere il permesso per cambiare il colore di questa camicia, accorciare le maniche. Non devo chiedere il permesso a nessuno se voglio, ad esempio, prestare la mia camicia a un amico, anche facendo pagare un piccolo canone. Quindi queste libertà di utilizzo, di studio, di modifica e di condivisione, gratis o meno, sono automatici quando parliamo del free software. E questo accade normalmente quando compriamo dei beni tangibili come un paio di pantaloni, una maglia, cosa che invece non accade e non ci è garantito quando acquistiamo dei prodotti intangibili, immateriali. Bene, sul continuum della libertà abbiamo due punti che rappresentano il free software. Abbiamo una licenza molto comune che si chiama NewGPL, utilizzata in Linux, è il sistema che uso sul mio computer, quindi quattro libertà. Poi abbiamo un'altra versione che si chiama Copy Center Free Software, e l'esempio più famoso è la licenza BSD, che ci offre un'ulteriore libertà. È la libertà di fare dei derivativi e cambiare anche la licenza del lavoro derivativo in una licenza proprietary. E' così che guadagna Mac, prende del free software e poi fa esattamente questo. Bene, vediamo quali sono gli altri elementi sul continuum della libertà. Creative Commons. Creative Commons è l'applicazione dell'ideologia del free software nel mondo dei contenuti. musica, testo, animazione, video. Ma la licenza non è unica, è un range, diciamo così, di licenze. Se prendiamo la parte più conservatrice del Creative Commons, ebbene, alcune parti ti impongono di utilizzare questo lavoro soltanto se non ha scopo di lucro, ad esempio. C'è una libertà che si perde quindi nel mondo del Creative Commons. E nel mondo sempre di Creative Commons, ci sono aspetti che ci impediscono di, come dire, operare su questo lavoro. Non possiamo operare modifiche. La modifica è un elemento centrale del concetto dell'open standard, del free software. Quindi la libertà di utilizzare questo strumento e anche di far pagare un certo fee non esiste. Quindi perdiamo questa libertà. Il mondo di Windows e Microsoft naturalmente non offrono nessuna di queste libertà. e lo vedete qui da questa parte. Poi vorrei portare la vostra attenzione su due concetti di cui si sta parlando sempre di più. Intanto la posizione della pirateria. Che tu mi dia la libertà o no, io voglio esercitare la mia libertà. Ed è così che la maggior parte della persona si comporta in India. Se si considera la business software alliance, è un gruppo di pressione per la Microsoft, eccetera. Betti diranno che l'82% degli utilizzatori di computer sono pirati. Usano il software, modificano il software, eccetera. Questi sono i pirati, diciamo così. Sono certo che qui in questa sala il numero di pirati sarà decisamente più basso perché non siete indiani, siete italiani, avete più mezzi. Però il futuro sarà molto diverso. Ho avuto la fortuna di visitare una scuola l'altro giorno con il team di cluster. Ho chiesto alle persone in sala o nella classe quanti di voi coppiano DVD legalmente. Ero certo che l'80% avrebbe alzato la mano e così è stato. Quindi la pirateria è qualcosa che i normali cittadini considerano parte delle normali attività su internet. Se si chiede a un giovane, ad esempio, di usare internet senza scaricare audio o musica o video, beh, ti diranno ma tu hai presso la testa, ti guarderanno molto strano. Andiamo oltre, vediamo la posizione più, quindi la posizione più radicale è quella, diciamo, della pirateria. Una condizione comune a Green New Commons, GNU, GPL e BSD è la condizione denominata attribuzione. Si può modificare, utilizzare, condividere, eccetera, ma bisogna dare un'attribuzione e questo è imprescindibile. E i pirati di solito non lo fanno, perché se si vuole piratare un film di James Bond, di solito, certo si dice che è di James Bond, raramente si mette il proprio nome su quel film, perché nessuno lo acquisterebbe. Quindi anche se sembra una posizione radicale, in realtà la pirateria è abbastanza conservatrice, nel senso che insiste sull'attribuzione o almeno nella pratica quotidiana dà un'attribuzione. Quindi vediamo adesso la posizione di Kearns Bile, un nuovo media artist di Bangalore. Uno dei suoi lavori più recenti riguardava un accordo, un contratto di licenza, molto interessante peraltro. Lui dice, una volta che hai acquistato questo prodotto, o che hai preso questo mio lavoro, bene, ha il diritto di produrre altri prodotti artistici e metterci il mio nome sopra. Hai anche il diritto di prendere la mia opera e metterci il tuo nome. Quindi ha smantellato l'ultimo elemento della proprietà intellettuale, e cioè l'attribuzione. Quando sentiamo parlare del cosiddetto mainstream IP, quello che vorrebbero farci credere, quelli del copyright, bene, essi parlano a favore di un regime alternativo di proprietà intangibile in tutto il globo. Quando sentiamo Creative Commons parlare, anche loro parlano di un'alternativa che si applichi in tutto il mondo. E questo è strano, perché non è il modo in cui funzionano altre strutture. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, il regime del capitale di noleggio, i tassi di interesse non sono gli stessi in Giappone, in Italia, eccetera, perché in ogni paese il mercato è diverso, naturalmente. Una certa parte del mercato ha del capitale, un'altra parte del mercato non detiene capitale. Il tasso di interesse viene calibrato con attenzione in modo da far sì che il capitale possa essere trasferito dalle due parti. Perché i tassi di interesse sono configurati in modo diverso nei diversi paesi? Beh, prendiamo le proprietà materiali. Se io devo, ad esempio, affittare un appartamento nel sud di Bangalore, beh, intanto devo dare dieci mesi di locazione in anticipo. A Nuova Delhi, la capitale dell'India, bastano due mesi di affitto. Quindi nello stesso paese non esiste un regime comune sui beni materiali. Quindi il regime, il sistema cambia da stato a stato, da città a città. Quindi la mia argomentazione è che chiedere la comune applicazione di un regime IP, che sia quello massimalista, quello proposto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, oppure il regime alternativo, che è il software free e creative commons. Beh, sono due soluzioni semplici. Il regime sulla proprietà intangibile deve essere configurato sulla base dell'equilibrio fra il lavoro materiale e il lavoro immateriale in ogni economia. Non può esistere un sistema, una soluzione applicabile in maniera uniforme. E poi bisogna prestare più attenzione all'attribuzione, perché sempre di più l'attribuzione non è un diritto morale. Se parliamo, ad esempio, a un accademico, a un intellettuale, beh, lui parlerà di diritti morali. Io ho creato questa poesia, ho scritto questo libro, quindi io merito l'attribuzione. È un diritto morale che io esercito. Non sembrano pensare adesso come un diritto economico. Invece su Internet è l'attenzione a determinare gli aspetti economici. Se tu hai più visibilità con il tuo video su YouTube, questo significa automaticamente che poi questo verrà richiesto dalle TV, dalle radio, eccetera. Un artista che abbia molta visibilità su YouTube guadagnerà automaticamente nel mondo reale. Quindi è così che funziona. L'ultima volta che sono venuto in Italia ho visitato una città di cui non avrete sentito parlare. È un paese che si chiama Copromontana, a 160 chilometri da Ancona. Ho visitato un monastero che aveva mille anni. Nessuno dà un'attribuzione a tutte le persone che hanno lavorato a costruire quel monastero mille anni fa. Eppure noi stiamo ancora utilizzandolo. Io oggi non uso nessun software che abbia mille anni, non leggo nessun libro che abbia mille anni, ma le persone che hanno scritto i libri 15 anni fa o scritto il software 15 anni fa, invece vogliono l'attribuzione per il loro lavoro immateriale. Quindi la mia domanda è come possiamo arrivare alla democrazia se abbiamo già deciso di pregiudicare il lavoro intangibile rispetto a quello tangibile, immateriale rispetto al materiale. Dobbiamo porci questa domanda. Dobbiamo forse sollevare, innalzare il rispetto per le persone che hanno lavorato in modo materiale trattandole allo stesso modo di quelle che hanno invece prodotto qualcosa con del lavoro immateriale. Passiamo adesso alla seconda parte della mia presentazione, l'egemonia del testo. In India c'è un poema che si chiama Ramayana e il principale protagonista è il dio Rama. Prima dell'era della televisione esistevano centinaia di versioni diverse della storia di Rama che andavano dal sud dell'India al nord dell'India. Anzi, ci sono aspetti storici in questo poema epico. Era un'antica battaglia fra l'India del nord e l'India del sud. Quindi nel nord, nella maggior parte delle versioni, Rama è l'eroe, è un uomo buono, non ha mai fatto nulla di male. Mano a mano che ci si sposta verso sud, la personalità di Rama diventa sempre più oscura. E quando si arriva poi nello Sri Lanka, Rama è veramente il cattivo e il re dello Sri Lanka ad essere l'eroe. Era un re buddista e questo Rama dal nord è arrivato per fare misfatti. Bene, naturalmente la televisione non ha raccontato centinaia di storie diverse, ha raccontato un'unica versione, quella braminica di Rama. E dopo il completamento della serie televisiva c'è stata una sorta di elezione, molti degli attori vi hanno partecipato e per la prima volta il partito fondamentalista hindu ha riscosso molto successo, perché si è arrivati a dare autorità a un nuovo tipo di conoscenza. Vedete come un cambiamento di tecnologia può arrivare a costruire una verità. Beh, non voglio parlare solo dell'India, abbiamo ancora la stessa versione braminica anche su Wikipedia. E nel sud dell'India, nelle parti più economicamente depresse, se qualcuno dicesse ma noi non siamo d'accordo, noi abbiamo una versione diversa della storia di Rama. L'hanno fatto, hanno cercato anche di scrivere una pagina di Wikipedia. O se cercassero di farlo, non potrebbero farlo, perché? Perché non hanno una cultura testuale, non hanno libri, hanno soltanto canzoni e cultura tradizionale. E queste canzoni non sono considerate fonti credibili di conoscenza e Wikipedia non accetterebbe quelle versioni della storia di Rama sulle proprie pagine. Quindi possiamo renderci conto molto chiaramente con questo esempio che Wikipedia va a privilegiare il letterato rispetto e il colto rispetto all'illetterato e alla comunità popolare. Wikipedia continua a rinforzare quindi la gerarchia di casta in India. Prendiamo qualunque nome indiano che è facile da riconoscere perché sono solo gli indiani di alta casta che si muovono, naturalmente che vengono in paesi come l'Italia, chi appartiene a una casta più bassa non può. Se dovessimo cercare Sharma o nomi di questo tipo, vedremmo una pagina che chiaramente indica l'affiliazione di casta. Quindi in un certo senso questa infrastruttura cosiddetta peer quindi considerata democratica in realtà rafforza le strutture, le gerarchie sociali esistenti in India. Andiamo adesso verso la conclusione con l'egemonia dei cosiddetti connessi. Qui abbiamo una mailing list di un'organizzazione non a scopo di lucro che si chiama Sarai a Nuova Daily. Se andiamo in fondo alla lista vediamo, questi sono gli archivi gli archivi di vari anni se andiamo in fondo vediamo che la discussione in media è espressa in un certo numero di byte non un certo numero di byte scambiati quindi circa mille persone della comunità. Sfortunatamente le persone su questa mailing list hanno fatto commenti sul problema del Kashmir conoscete, no? Si tratta di una zona fra l'India e il Pakistan e sei hindù del Kashmir sono entrati nella mailing list e hanno cominciato a protestare violentemente e ha funzionato durante il periodo di Hitler e funzionerà di nuovo se si racconta la stessa bugia a un certo punto tutti la credono e quindi da 9,8 MB al mese sono arrivati a veramente a far naufragare tutta la conversazione e questo perché dei giovani fondamentalisti indiani hanno accesso illimitato a internet lavorano in società di software sono sempre connessi non è come i Dalito o chi appartiene a una casta bassa deve andare a un internet cafe per potersi connettere l'ultimo esempio questo è YouTube e Wikipedia potremmo dire che rappresenta la sfera pubblica mediata da un'organizzazione non a scopo di lupro YouTube quello che insomma rimane su internet rappresenta invece una sfera mediata dalle grandi società il video più popolare era questo Evolution of Dance è un bellissimo video se non l'avete visto fatelo perché vi piacerà certamente ma sfortunatamente Avril Lavigne ha lanciato una canzone che si chiama Girlfriend e l'ha messa su YouTube e alcuni dei suoi fan si sono raccolti si sono riuniti e hanno deciso di rendere questo il video più popolare su YouTube quindi hanno caricato ripetutamente centinaia di volte al giorno la pagina immaginatevi quanto pazzi possono essere i fan e nel giro di 2-3 mesi è diventato il video più popolare su YouTube è un altro chiaro esempio di come la sfera pubblica viene manipolata o può essere manipolata da un piccolo gruppo di persone e se non so arriva una persona media poi su YouTube e vede questo beh pensa che questo personaggio sia popolare e se lo meriti questo è stato fatto volontariamente e li possiamo anche perdonare ma in regimi come quello russo il governo sta pagando sempre di più dei blogger affinché attacchino altri blogger che sono contro il Cremlino quindi i governi cominciano a creare dei movimenti di base falsi attraverso internet e questo naturalmente può andare a colpire la democrazia su internet grazie per la vostra attenzione grazie 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 molto anche a Sunil Abraham a questo punto abbiamo ci siamo organizzati per lasciare 20 minuti di interazione col pubblico quindi pregherei chi ha qualcosa da chiedere ai nostri speaker di alzare la mano per rivolgere delle brevi domande. Qualcuno che vuole fare domande perché altrimenti io esercito il diritto di coordinatore e ne faccio io. Prego in prima fila, se vuole dire chi è e svolgere la domanda. Buonasera, mi chiamo Gianni Uglianetti. Volevo fare una domanda al professor Lozano. Prima si parlava dell'importanza della tutela della privacy e così via. Quando si parla, diciamo così, di necessità o possibilità di dare la massima libertà a tutti di poter agire, interagire su internet e così via, in che misura secondo lei si pone il fenomeno però della simmetria cognitiva di chi opera su internet e del rischio, della criticità di quella che viene definita come digital divide anche in paesi ad alta evoluzione, come l'Italia ad esempio, dove sicuramente ci sono soggetti che non per colpa loro, il famoso vantaggio o svantaggio comparato, sono impossibilitati ad accedere ad alcune risorse e quindi possono essere vittime di processi di manipolazione e purtroppo gli ultimi anni o decenni stanno dimostrando questo anche nel nostro paese e quindi la possibilità o libertà di accesso come possono essere mediate e declinate rispetto a fenomeni che ancora non siamo riusciti a sconfiggere come il digital divide e la simmetria cognitiva di soggetti che non per loro responsabilità sono più deboli rispetto alla forza dell'informazione. Grazie Rispondo molto sinteticamente. Non bisogna attribuire a internet delle responsabilità che sono molto più generali. La manipolazione oggi non avviene attraverso internet ma per esempio attraverso la televisione, nel bene e nel male. L'unificazione linguistica dell'Italia in fondo è avvenuta più attraverso la televisione che non attraverso la radio. Indubbiamente esistono delle gradazioni di informazione e soprattutto esiste oggi una forte divisione all'interno della società civile nelle capacità di accedere all'uso dello strumento elettronico. E questo è un compito educativo che sta alle spalle dell'uso dello strumento stesso. Dovrebbe essere un compito di chi vuole gestire democraticamente una società cercare di portare le persone ad un livello comparabile, non dico uguali, di conoscenze di base. Oggi ad esempio non conoscere l'uso di internet è una forma di analfabetismo. Però come si può eliminare questa forma di analfabetismo? Solamente creando delle strutture educative che siano affiancate alle strutture educative tradizionali, non solamente quelle che insegnano l'uso del testo come è stato accennato precedentemente, ma che insegnano ad usare anche criticamente questi tipi di strumento. Però ecco, attenzione a non attribuire a internet delle responsabilità sociali che sono in realtà a monte di internet. Mi limiterei a questo perché il problema ha una vastità difficilmente affrontabile in pochi minuti. Me ne scusi. Due commenti molto brevi su questo punto. Nel XIX secolo abbiamo iniziato a creare il suffragio universale. Il suffragio universale nei paesi occidentali, almeno per gli uomini, iniziava a diffondersi. All'epoca si sosteneva che non si poteva concedere il suffragio universale perché le persone erano analfabete e le persone non avevano l'accesso all'informazione. Quindi c'era chi si opponeva al suffragio universale sostenendo che appunto chi era più ignorante poteva essere facilmente manipolato. Persino Churchill lo sostenne. Ecco, la risposta fu proviamo. Proviamo a insegnare a queste persone come leggere e scrivere. Oggi, per quanto riguarda la manipolazione tramite internet, posso dire che internet è il mondo reale. Quindi non bisogna parlare di internet e mondo reale. Internet è il mondo reale. Quindi le forze del potere agiscono in internet così come agiscono di fuori. La forza, il potere del denaro agisce su internet e fuori da internet. È la natura di qualsiasi procedura democratica, di qualsiasi organizzazione. È chiaro che può essere pervertita da interessi specifici. La democrazia dovrà essere sempre reinventata. Bobbio diceva che la democrazia deve essere inquieta sempre se vuole rimanere una democrazia e se vuole migliorare. E lo stesso vale per internet. Prendo spunto da Sunil quando parlava di Wikipedia e di come in realtà supporta e rafforza alcune opinioni religiose. Lo stesso avviene anche nella versione araba, ad esempio, di Wikipedia. Ci sono quindi degli svantaggi, dei limiti, però ci sono cose che possono essere migliorate. Grazie. Altra domanda? Con presentazioni di questo tipo, in questo contenuto, mi aspetto, prego, in quinta fila. Salve. Io sono Filippo Gangidino. Partendo dal presupposto che sono assolutamente d'accordo rispetto alle interpretazioni che erano aperte di discussione e proprio quello che diceva alla fine sul fatto che internet è rappresentazione del reale. Non credo che, come spesso si vuole dire, sia una perversione, sia lo specchio di alcune persone maggiormente narcisistiche, ma credo che sia sempre di più rappresentazione di tutti gli aspetti del reale. Detto questo, mi chiedo e vi chiedo, anzi, così come ci si educa, ci si allena all'uso della democrazia, al tenere viva la democrazia, come si può fare a fare il passaggio con i media, ovvero come educarsi all'uso dei media e come educarsi attraverso i media. Ecco, questo... Boh, grazie. Dunque, prima di rispondere a questa domanda vorrei chiarire una cosa. Io sono un sostenitore del software libero e sostengo l'open access, gli open standard e così via. Ed ecco perché amo così tanto questi argomenti che assumo anche un atteggiamento critico. Ora, per rispondere nello specifico alla sua domanda, come possiamo costruire una nuova alfabetizzazione in questa era? Vorrei ritornare un attimo all'esempio di Wikipedia e allo strumento che stanno costruendo a Bangalore. Dunque, il progetto è attuato da un matematico e da un programmatore. Fondamentalmente che cosa stiamo facendo? Estraiamo una pagina controversa da Wikipedia, ad esempio una pagina su Obama e poi vediamo la storia delle modifiche, degli edit e poi vediamo quali sono le persone che sono intervenute su quella pagina. Dopodiché analizziamo tutte le altre pagine che le stesse persone hanno modificato, su cui sono intervenute e poi vediamo quali sono le parole che hanno aggiunto e cancellato. Quindi cerchiamo dei pattern, degli schemi lessicali in Wikipedia e poi matematicamente li raggruppiamo, raggruppiamo questi termini. Questi gruppi poi non vengono chiamati neoconservativi eccetera, ma è in base all'uso dello strumento che decidiamo di assegnare dei nomi a questi gruppi e poi possiamo decidere di monitorare questi gruppi per vedere qual è il loro comportamento su Wikipedia. Quindi man mano che questo strumento diventa sempre più potente e più complesso e inizia ad informare anche l'opinione pubblica, dobbiamo anche avere degli strumenti di analisi e centri come Nexa lo fanno questo per poter capire quali sono gli strati sottostanti a queste piattaforme di produzione di conoscenza proprio per proteggere i valori democratici che queste piattaforme di produzione tra pari portano al pubblico. È una risposta breve e mi auguro di essere stato soddisfacente. Ecco vorrei aggiungere soltanto una cosa, una cosa importante. Dunque è importante che gli strumenti siano fondati sul software libero, altrimenti si ritorna alla trappola del software proprietario, ma è anche importante che siano simmetrici. Che cosa intendo? Gli strumenti non devono creare un'assimmetria di posizioni tra ad esempio gli organizzatori del dibattito e coloro che partecipano semplicemente al dibattito. Quindi se ad esempio se non piace il dibattito sull'università aperta si può andare sul web service e pubblicare una critica. Questo è importante perché significa che produciamo degli strumenti low tech, a bassa tecnologia e gli strumenti troppo tecnologici spesso infatti hanno troppa assimmetria intrinseca. È chiaro che l'educazione richiede pratica. Lei mi ha chiesto come ci si può educare all'uso dei media. Beh la risposta è la pratica, la produzione, l'autoproduzione di video ad esempio è un importante passo per criticare la televisione. Ciò che non si è riuscito a insegnare, un anno di insegnamento sulla critica della televisione è stato proprio raggiunto attraverso la pratica. Le persone che hanno iniziato a produrre dei videoclip di canzoni rap o di altre cose. Quindi ecco l'autoproduzione di video ha portato ad una critica più informata della televisione. Giungerebbe soltanto che quando parlava il primo intervento della platea di assimmetria cognitiva e appunto un'altra forma di assimmetria cognitiva è esattamente quella a cui faceva riferimento Filippo Gerencio. Il fatto che certe aziende, anzi qualunque provider di determinati strumenti o ipoteticamente i governi sanno molto moltissimo su di noi e noi viceversa sappiamo molto poco del nostro stesso comportamento online. Quindi la risposta a questo potrebbe essere duplice da una parte la via del diritto positivo e quindi leggi che tutelino magari in maniera nuova e evolutiva la privacy o addirittura una costruzione di internet, l'Internet Bill of Rights di cui si sta parlando in questi ultimi anni. Un'altra possibilità è invece quella di creare, sfruttando la bidirezionalità di internet, degli strumenti dal basso, tipo quello che ha appena descritto su Neil Abraham per permettere con gli strumenti di internet di ridurre questa simmetria cognitiva, di sapere quello che sta capitando quando si usano determinati strumenti oppure quando si usano un motore di ricerca come Google. prossima domanda? Io intanto, mentre la prossima domanda viene formulata nella testa di uno dei presenti, dico agli speaker che concluderemo negli ultimi 5 minuti. Ah, purtroppo il professor Lozano temo che ci debba lasciare per un altro impegno. Chissà se riesco ancora a fermare per un secondo per chiedergli quello che chiedeva anche a Filippo Green sull'Auron di cominciare a pensare, immaginandoci a 5 anni, a 10 anni di distanza, qual è lo scenario peggiore e migliore relativamente a internet e democrazia deliberativa. Il professor Lozano non ha il tempo di prepararsi, per cui lo metto sotto il podio istantaneamente. Quale sono la sua paura più grande, ma anche la sua promessa positiva che concretamente potremmo raggiungere nel giro di pochi anni? La paura più grande è che tutto resti com'è e tutto vada a rotoli, è la sensazione attuale. La speranza, viceversa, è che lo spirito critico che incomincia a manifestarsi già in vari punti della società civile aumenti e si diffonda. Nel senso che lo strumento veicola messaggi. Internet ci porta una serie di informazioni sul tavolo e la valutazione sta a noi farla. Il vero divide di cui si parlava è tra chi non riesce ad accedere ad internet, non perché non ci riesce. Si potrà andare in un cybercafé o si potrà avere la connessione in casa. Il problema è che in entrambi i casi si sa usare lo strumento. Viceversa, la vera divisione è tra chi non usa o addirittura ha timore dello strumento e quindi si esclude da un rapporto con quello che è lo strumento comunicativo più avanzato. Allora va progressivamente ridotta questa prima fascia di persone che non usano perché non possono o perché temono lo strumento. La prospettiva futura positiva sarebbe quella che questo gruppo venisse ridotto al minimo ma che passasse al gruppo di utenti dotato di spirito critico. Grazie molto. Mentre Sunil e Filippo pensano le loro risposte caso peggiore e caso migliore abbiamo un'altra domanda dalla platea. direi di no. Allora vogliamo cominciare con Filippo. Non so se voglio descrivere lo scenario peggiore. Diciamo che la mia diagnosi cinque anni fa quando ho creato Stop in Space era che la crisi contemporanea della democrazia sarebbe avvenuta e devo dire che è normale per la democrazia essere in crisi però la dimensione attuale della crisi è molto ampia e non è una crisi di decisione o di rappresentazione come molti sostengono ma è piuttosto una crisi di riduzione delle opzioni prese in considerazione prima delle decisioni. quindi questa è la crisi che vedo. Lo scenario migliore nel futuro è uno scenario in cui l'abilità degli individui e dei gruppi di esprimere la propria opinione, di interagire gli uni con gli altri spontaneamente talvolta e a volte in maniera più strutturata e coordinata si ampli e contribuisca proprio a riampliare lo spettro di scelte di opzioni politiche. La politica nel suo senso più nobile si fonda sulla capacità, sulla possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Al contrario lo scenario peggiore è il caso in cui invece di avere sul tavolo un'ampia gamma di opzioni e di scelte la crisi ecologica, sociale e finanziaria ci porterà ad una limitazione ulteriore delle opzioni di scelta. ecco, credo che in una situazione di quel genere le cose pergiorerebbero di gran lunga. Lo scenario peggiore, l'internet diventa come la televisizione interattiva e quindi alcune poche grandi aziende controllano la maggior parte di internet attraverso forme legali di controllo quindi in base ai diritti di proprietà intellettuale e a forme tecniche di controllo quindi ad esempio la gestione dei diritti tecnici. Invece lo scenario migliore quale può essere? Beh, un caso in cui lo Stato e le organizzazioni non a scopo di lucro iniziano a pensare a motori di ricerca a software di networking sociali, a piattaforme di hosting come utility, come servizi pubblici e a quel punto le piattaforme diventeranno interoperabili le une con le altre in modo che per i cittadini sia più facile spostarsi da una piattaforma all'altra e i dati possono essere strappolati dalle piattaforme. La prossima volta che becco mia moglie su Facebook, ecco nessuno lo saprà. La prossima volta che mando un messaggio a mia moglie su Facebook nessun altro lo potrà sapere. Grazie. E con questo ringrazio i relatori per il loro contributo, ringrazio gli organizzatori della Biennale Democrazia e tutti voi per aver partecipato. Grazie. Grazie.